I lavori di restauro erano stati ultimati ad inizio 2016 ma non sono bastati ad evitare il distacco di una porzione di Capitello, ennesimo sfregio alla reggia di Caserta, questa volta per colpa del maltempo che si è abbattuto sulla città. Danni alla facciata sud, una tempesta di acqua, grandine e fulmini che ha lesionato uno degli elementi architettonici della facciata della reggia. La zona è stata transennata in via precauzionale per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche e valutare se ci sono altri danni. Ma ad impressionare è stata anche la tromba marina che nel primo pomeriggio si è abbattuta con inaudita violenza su Salerno, in particolare nella zona portuale. Per alcuni minuti il vortice che si è formato a largo di vietri ha raggiunto la terraferma devastando il deposito container di proprietà Gallozzi e Amoruso. La furia del vento ha sollevato i cassoni pesanti ribaltandoli e danneggiandoli. Alcuni operai non si sono accorti per tempo dell'arrivo della tromba marina e due di loro sono rimasti feriti per fortuna in maniera non grave. Il vortice sullo sfondo della costiera amalfitana ha fatto ben presto il giro del mondo, social impazziti migliaia di condivisioni tra Facebook e Twitter con l'hashtag tromba marina Salerno che è diventato subito di tendenza. Gravi danni anche altrove in Campania, accapriati nel casertano paura per il fiume Volturno che ha tracimato travolgendo un'auto con a bordo due donne, mentre nel salernitano paura sala consiglina per l'esondazione di un torrente che ha allagato alcuni quartieri della città costringendo le autorità ad evacuare alcune abitazioni. Criticità anche in Irpinia con oltre 50 interventi dei vigili del fuoco, a Montefredane si è aperta una voragine che ha quasi inghiottito un'auto parcheggiata. Prosegue la conta dei danni certamente ingenti, anche se la situazione dovrebbe migliorare col passare delle ore. La protezione civile regionale ha infatti portato l'allerta da arancione a gialla.